Allora dovrebbe esserci adesso un piccolo video che ci riporta quello che è successo due mesi fa, sembrano passati mesi e mesi, ma questa scritta Tsunami Tour a me ricorda questa cosa, prego la regia di mandare in onda questo video emozionale del nostro Tsunami Tour. Tsunami Tour Allora questo Tsunami Tour ha portato 163 di noi là dentro e che ha significato che 163 di loro sono andati a casa, sono in cerca di lavoro, certo, non sono andati a casa come succederebbe a ognuno di noi, quindi senza un paracadute, sono andati a casa con un bel buono uscita, ma vabbè ce li siamo levati in 163. Le televisioni non tutte, molto poche devo dire la verità, raccontano quello che stanno facendo questi ragazzi, io vi assicuro che ho avuto, devo dire la verità anche l'emozione, la settimana scorsa per la prima volta in vita mia sono andato alla Camera, al Senato a incontrarli. A parte che io chiederò a Beppe, Beppe mettiamo una regola, una sola legislatura e poi a casa, perché là dentro è troppo bello. Cioè se tu vai al Senato tra i tappeti, gli arazzi, i quadri che ci sono ti assicuro che ti emozioni. Poi ho riso perché andavamo a prendere il caffè in questo alla bouvet, tutto elegantissimo, con questi, il bar, insomma immaginate una roba elegante di più e Filippo mi ha detto guarda girati, guarda chi c'hai dietro, e io mi sono girato e non ho visto nessuno, poi ho capito che dovevo guardare in basso e c'era Scilipotti che mi guardava dall'alto verso il basso, non ho capito come facesse ma lo ha fatto. Bene, questo Tsunami Tour ha portato questi cittadini, come dicevo, dentro il Parlamento, questi cittadini sono comunque cittadini, quando sono là sono vestiti eleganti, sono parlamentari, sono deputati, sono senatori, ma sono anche qua e sono ritornati a essere cittadini. Il primo video della nostra prima deputata parla di DEF, di piccole imprese, di pubblica amministrazione, di lavoro, che per quanto dica ovviamente Silvano e sono d'accordo con lui che una catena in questo momento è il più grande problema, noi dobbiamo parlare di lavoro, altro che di togliere il carcere per il concorso esterno dell'associazione mafiosa, di fare le leggi per fare il bavaglio a internet, o di chiudere o di cambiare la legge elettorale, dovete parlare di lavoro, ma vi manderemo tutti a casa. Ecco, sentite alcuni degli interventi dei nostri ragazzi dentro al Parlamento. Questa è Laura Castelli. Intanto il titolo di onorevole va conquistato giorno per giorno, questo per l'onorevole Buttiglione. Va conquistato giorno per giorno, dicevo, stando qui e facendolo decidere ai cittadini, agli italiani, quello che ci hanno messo qui. E poi volevamo ringraziare l'aula perché oggi è piena, a differenza di ieri, in cui invece ci siamo trovati un'aula mezza vuota, forse perché era un momento di discussione e non si doveva votare. Beh, oggi siamo contenti che sia davvero piena. Quest'oggi comunque siamo davvero felici, felici perché 109 cittadini si sono messi nelle ultime tre settimane al servizio di cittadini, con le proprie competenze che che ne dicano alcuni. Abbiamo letto ogni riga di questo DEF, con la speranza di chi cerca tra le righe le risposte per un Paese estremato. Beh, le risposte non le abbiamo assolutamente trovate. E per questo, caro Presidente, siamo delusi, amareggiati e allibiti. Ma lo siamo soprattutto perché pensiamo che questo DEF sia un'occasione persa. Sì, Presidente, questa è la prima occasione persa del nuovo Governo Letta. Era soprattutto l'occasione per scrivere quelle parole che stanno dentro al vostro libro dei sogni e che non abbiamo ancora capito se avete intenzione di realizzare. Più che altro non capiamo come. E dobbiamo ammettere, spiace molto perché tante di quelle parole sono anche le nostre parole, solo che noi le abbiamo messe nero su bianco. I cittadini, che non sono rappresentati da voi, oggi sono rappresentati in Parlamento dal Movimento 5 Stelle. Volevamo invitare il signor Buttiglione, visto che il titolo di onorevole per me non se l'è conquistato, ma abbiamo preferito Laura Castelli. Ciao a tutti. Allora, intanto grazie perché in questi due mesi ci avete accudito e ci avete fatto sentire a casa voi romani, dal panettiere al tassista, quindi viviamo giorno per giorno questa città ed è davvero bellissima. Noi due mesi fa eravamo qua e non vi promettevamo niente, non vi abbiamo promesso niente perché noi di solito non lo facciamo, ma vi abbiamo detto che saremmo andati lì, avremmo fatto delle cose e quindi come state vedendo stiamo facendo tante cose, peccato che l'informazione non ve le faccia vedere, quindi il film che a voi propinano è diverso da quello che in realtà vediamo noi. E il film che vediamo noi forse è uno dei peggiori della storia della Repubblica italiana, è un film che è fatto soprattutto da anti-verlusconismo ed è un film che non ha più i soldatini blu e i soldatini rossi, ma ha solo la casta. Noi abbiamo usato un sacco di volte la parola casta e oggi la casta non è solo più composta dalla politica, ma è anche composta da quelli che sono i cronisti parlamentari, sono quelli che ci incrociano nei corridoi, sono quelli che non vogliono ascoltare le cose che facciamo, che stanno solo attenti al nostro gossip e quindi noi siamo stanchi. Per cui facciamo tutti i giorni video, vi informiamo di quello che facciamo, facciamo le dirette, facciamo ogni momento che possiamo informazione per voi e così ci mettiamo davanti alla telecamera e vi raccontiamo la nostra giornata. Io personalmente lo faccio abbastanza spesso perché parlando di bilancio giustamente tanti di voi vogliono sapere che cosa facciamo. E allora come avete visto nel video, una delle prime cose che abbiamo fatto, visto che a noi piacciono i fatti, è scrivere davvero quello che volevamo, quello che tutti noi vogliamo. Quello che abbiamo scritto nel documento più importante che questo Paese e questo Stato produce, ossia il bilancio, sono tantissime proposte che stanno diventando reali perché sono proposte che consegniamo e come dicevo nel video che avete visto, sono proposte che hanno dentro delle parole che oggi ci hanno rubato e abbiamo scritto tante di queste parole che però facciamo fatica a rendere parole loro, perché facciamo fatica a convincerli, facciamo fatica a convincerli che la nostra idea di economia è un'economia di vita reale e che non è un'economia fatta di banche e di redditi e di speculazione. Facciamo fatica a spiegargli che il consumo di suolo deve finire soprattutto quando a guadagnarci sono le lobby. Così come facciamo fatica a spiegargli che fare un inceneritore che fa morire, fa morire tutti e che loro non sono immuni. Oppure cerchiamo di convincerli che la legge dovrebbe essere uguale per tutti e che oggi non è uguale per tutti. Noi siamo stanchi di fare questa fatica, ma li convinceremo, siamo convinti di questo, li convinceremo tutti. Per cui quello che noi facciamo è mettercela tutta e la cosa più bella è che quelle parole che noi due mesi fa dicevamo sul palco di Piazza San Giovanni ora sono diventate reali, sono diventate sudore, sono diventate amore e passione. Per cui noi ce la mettiamo tutta insieme a voi. Grazie. Grazie Laura, grazie mille.